dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile il mistero dei bambini direbiribo 00 capitolo 9 sono le 15 e 30 del pomeriggio e mi sono appena svegliato quello che è successo ieri mi ha sconvolto tentai di chiamare mario ma c'era la segreteria visita parte l'orgoglio mi recai in macchina e sfrecciai verso la casa di mario stranamente la porta della sua casa era aperta provai ad entrare e c'era un bordello assurdo c'era mezza casa sotto sopra c'era tutto tranne che mario girovagai nella casa ma nulla non lo trovai strano lui sta sempre in casa e soprattutto è molto ordinato e la cosa più importante è che non lascia mai la porta di casa aperta riprovai a cercarlo in casa e alla fine entrando in cucina senti un odore tremendo e spostando delle sedie che erano in mezzo alla cucina vidi delle scale così scesi quello che vidi mi fece letteralmente cagare sotto vidi lui riverso in una pozza di sangue era aperto in due e di fianco al suo corpo vidi una motosega mi misi a piangere mi gettai sul suo corpo e notai un bigliettino che teneva in mano decisi di leggerlo ciao matteo quando leggerai questo biglietto io probabilmente sarò già morto ma ti giuro non ce la facevo più loro mi perseguitavano dalla mattina alla sera mi minacciavano di uccidermi se provavo a chiamarti ecco perché non rispondevo mai mi minacciavano pure perché non volevano che ti raccontavo quello che ho scoperto e purtroppo non ho potuto scriverti quello che ho scoperto perché mi stanno guardando e tengono in mano dei coltelli pronti ad uccidermi nel caso ti scrivessi quello che ho scoperto mi dispiace dovevo crederti tutto quello che era successo a tua figlia e tutti i collegamenti che stavi facendo erano tutti veri ma ero scettico non ci credevo prima ma dopo essermi sentito osservato e poi perseguitato per la minima cosa che facevo ci credetti ti dico solo una cosa me l'ha detto una bambina quella bambina la bambina che perseguita la tua famiglia ovvero giulia mi ha detto tutte le tue risposte sono dove hai trovato le domande un'ultima cosa un mio collega crede in queste cose strane si chiama mattia tisker il suo numero di telefono è e lecco il numero di telefono chiamalo in caso ci fossero dei problemi e se scopri qualcos'altro sei stato un amico grandioso anche se ci conoscevamo da poco tempo mi raccomando risolvi il mistero fallo per me ti voglio bene matteo da mario madonna mi dispiace per lui se solo fossi venuto un po prima magari era ancora vivo ma ora so chi è stato ad ucciderlo giulia marco giovanni e paolo ovvero i bambini del video chiamai la polizia con il privato e gli diedi le varie indicazioni per trovare la casa di mario e il suo corpo e subito dopo corsi a casa mia appena entra in casa andai in ufficio e grazie per l'anima